In campo maschile il disco è andato allo statunitense Mason Finley con 65 e 44 ha fatto il personale, ma ha fatto pure il personale, ma che personale? La croata Sandra Perkovic è 71 e 41 per lei, miglior prestazione mondiale stagionale diventa la quindicesima migliore della storia e sale dunque due posizioni nella classifica di tutti i tempi e sono constante